Signori, quello che è successo ieri macchia il cuore di tutti quanti noi. Noi siamo vicino a quella tragedia, se così la possiamo definire, 800 anni di storia, di cultura, di storia dell'arte, sono stati bruciati. Ma noi siamo pronti a riscaldare la Francia, a riscaldare Parigi, con un forte applauso e lo facciamo con tutti quanti loro. Grazie.